Ideal Standard, novità positive per i lavoratori. Giovedì scorso è stato firmato l'accordo che prevede il trasferimento di tutti gli operai nella nuova società e la procedura per l'avvio dei contratti di espansione che consentiranno il collocamento in pensione anticipata per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro 36 mesi. Nell'ultimo periodo, commentano i sindacati, il tavolo istituzionale costituito presso l'unità di crisi della Regione Veneto ha selezionato il piano di reindustrializzazione presentato da Banca Internazionale Finint Spa nel ruolo di promotore di un'accordata di investitori vicini al territorio. Questo prevede il mantenimento della produzione di ceramica sanitaria salvaguardando le competenze di tutte le maestranze dello stabilimento. Grande la soddisfazione da parte delle organizzazioni sindacali che concludono la promessa fatta ai lavoratori è stata mantenuta. All'indomani dell'annuncio della chiusura è stata garantita la salvaguardia del mantenimento del loro posto di lavoro. Al coro si unisce anche il presidente della Regione Zaia, il trasferimento dei lavoratori dell'azienda Ideal Standard all'accordata di imprenditori composta da Banca Finint, Leonardo Del Vecchio, Luigi Rossi, Luciani e Bruno Zago è un ottimo risultato, dichiara il governatore. Avevamo promesso tutto l'impegno necessario a salvare un'azienda emblematica e siamo arrivati alla conclusione attesa. Anche il ministro d'Incaa esprime il suo compiacimento, l'accordo è la dimostrazione di quanto questa lunga e importante trattativa abbia raggiunto i risultati sperati, con il grande obiettivo di mantenere la realtà occupazionale e rilanciare la produzione della ceramica sanitaria nel territorio.